Altra cosa, chi sei è molto più importante del cosa vendi. Tu per un potenziale cliente puoi essere uno dei tanti, e questo è un problema ragazzi. Se sono visto come uno dei tanti, vince chi fa il prezzo più basso. Non c'è storia. O magari posso essere di riferimento. Se sono di riferimento, il tutto cambia. Altra cosa, anche il posizionamento e percezione. Io qui dentro per voi posso essere il migliore, vado in un'altra aula anche di serramentisti, non mi conosce nessuno e sono uno dei tanti. Guido è qua, guido è in quell'aula. Quindi anche il posizionamento e percezione. Se io nella mia zona dove lavoro, dove vivendo, sono visto come riferimento, non per forza devo essere di riferimento a livello provinciale, regionale o nazionale, l'importante è che nell'ambito del mio mercato io venga visto come il riferimento. Voi oggi siete il mio mercato paradossalmente. Potrei incontrare tanti altri serramentisti magari a un incontro di produttori o altro e magari molti non mi conoscerebbero. Ci sta ragazzi. Per loro io sono un serramentista, sono uno dei tanti come loro. E quindi la cosa che non voglio che voi facciate è questa. Non vi facciate pippe mentali. Non è l'attestato che vi fa vendere porte e finestre. Con questo ancora una volta non voglio dire che non bisogna essere competenti nel modo più assoluto, ma non è l'attestato che vi fa vendere porte e finestre. Se oggi ci sono delle persone, medici, ingegneri, architetti, avvocati, laureati, quindi l'attestato ce l'hanno ed è la laurea, è che comunque hanno difficoltà, di certo non sarà l'attestato conseguito dopo quattro ore o dopo una giornata di corso a farci vendere finestre. Nel modo più assoluto. Anche i professionisti oggi, se non comunicano, non vendono, perché anche il loro mercato è saturo. E loro, a differenza nostra, hanno molte difficoltà in più, perché loro il prodotto non c'è, cioè, su tutte le competenze. Noi possiamo mostrare la finestra a signora Maria, possiamo fargli vedere delle cose a signora Maria. Per loro è molto più difficile.